È importante partecipare a questo Ro Show perché ci troviamo in un momento storico particolarmente sfidante. Una nuova regolamentazione, maggiore concorrenza, potenzialmente mercati finanziari che torneranno volatili, digitalizzazione, sono solamente alcune delle tematiche su cui si stanno confrontando tutti gli operatori del settore. I consulenti pertanto dovranno ripensare la loro professione e evolverla verso una figura di financial planner. Se da un lato pensiamo che parte dei processi di investimento di asset allocation saranno sempre più centralizzati o automatizzati tramite model portfolios o tramite piattaforme digitali a supporto degli stessi, dall'altro lato riteniamo la figura del consulente ancora è sempre più centrale nel gestire la relazione con i clienti, quindi nel cercare di identificare dei bisogni che saranno sempre più complessi e tradurre in soluzioni di investimento che invece dovranno essere sempre più efficienti. Nel corso del nostro intervento analizzeremo alcuni dei trend che vediamo nell'industria del risparmio gestito e della consulenza, identificando le best practice più rilevanti per il nostro mercato. Esploreremo alcuni di quelli che sono i driver di crescita dell'industria dei prodotti indicizzati e degli ETF e delle motivazioni per cui i consulenti, private banker in giro per l'Europa e anche in Italia si stanno avvicinando sempre più a questo strumento. Infine vi racconteremo un po' le ultime novità in materia sempre di ETF e prodotti passivi, quindi model portfolio in ETF o strategie più innovative come ad esempio quelle smart beta, le strategie sostenibili o quelle tematiche.